ciao a tutti amici io sono franco versa un amico mi ha chiesto come fare delle scritte che seguano delle persone degli oggetti delle cose questo si fa con il tracking però ogni volta che io faccio questa cosa mi viene mal di testa perché purtroppo il tracking dipende tantissimo dalla ripresa dal movimento dalla ripresa come risoluzione qualità se ci sono dei punti molto evidenti sulla ripresa se l'oggetto è troppo veloce sarà difficile tracciarlo andiamo a vedere io ho preso una ripresa con questa grafica dove ci sono delle persone in movimento già qua bisogna identificare qualcosa di molto preciso prendiamo questa signora ad esempio che ha qualcosa in mano quindi vedete questo qualcosa resta abbastanza visibile almeno fino a questo punto qua allora facciamo due prove una la facciamo in fusion dove in realtà l'operazione è abbastanza veloce e la seconda la facciamo nella pagina color quindi andiamo in fusion direttamente dalla clip ecco la nostra clip come facciamo basta selezionare la clip premere shift barra spazzalatrice e cercare tracking che questa crocettina qui ecco che ci appare subito video possiamo mettere anche un solo schermo così andiamo meglio questo e vediamo infatti che la signora in mano qualcosa una calcolatrice cellulare non so andiamo puntare questo oggetto come vedete qua possiamo vedere l'oggetto l'oggetto dovrebbe essere un punto contrastato una volta inserito così possiamo fare anche best match e andiamo a premere track forward per seguire il punto ecco la vedete che il tracking segue punto adesso la testa si sormonterà al nostro puntino bianco e quindi magari più difficile però ok è andato bene come vedete il tracking ha fatto un buon movimento e quindi ha seguito abbastanza il nostro puntino torniamo qui il gioco diciamo che è già fatto andiamo a inserire l'oggetto che vogliamo segua la nostra persona può essere un logo può essere una scritta qualsiasi cosa che andiamo a generare con gli altri punti io per far prima faccio una scritta andiamo a visualizzarla sul primo monitor eccolo qua e scriviamo ad esempio signora in rosso facciamo una bella scritta rossa e su shading diamo anche un contorno nero e facciamo trick per avere eccolo qua bene adesso sarà grande andiamo a sistemare prima trasciniamo giù così in uscita non vedremo niente perché sul nodo di tracking dobbiamo andare su operation e dire ma cosa devo farci di questa scritta qual è l'operazione devo fare match move ecco qua appare il nostro scritto ora da qua possiamo andare a ridimensionare la scritta e con il center della scritta o sul layout è uguale possiamo andare a posizionare la scritta rispetto alla nostra signora allora la signora è questa qui quindi andiamo a posizionare la scritta qui facciamo la scritta ancora un po più piccola purtroppo qua la grafica un po particolare ecco qua e vedremo questa scritta seguire questa signora andiamo a verificare tutto facciamo fit e proviamo a mettere in play e come vedete la nostra scritta sta seguendo perfettamente la signora anche con eventuali ondulazioni eccetera del punto che abbiamo tracciato ecco molto semplice diciamo questo è il risultato bene adesso andiamo a vedere il secondo metodo allora rimettiamo questa interna riscegliamo riteniamo la stessa che abbiamo visto che era un buon punto fino a qui tagliamo in questo caso mettiamo già la scritta in timeline ovviamente della stessa dimensione e scriviamo questa volta voglio scrivere red vado a rifarmi tutta la scritta come bordo eccetera sempre la devo già preparare comunque si può cambiare anche dopo in questo caso no perché perché siccome dovremo applicare a questa clip il movimento di questa sul testo non si può applicarla direttamente quindi andiamo anche già a posizionare la nostra scritta dove la vogliamo quindi sul layout andiamo a portare la scritta red a fianco come abbiamo fatto alla signora con il cellulare e anche la dimensione la facciamo già corretta ecco qua in questo caso creiamo una new compound solo sulla new compound potremo attaccare i dati del tracker una volta fatto così ci spostiamo sulla color page allora attenzione subitissimo una prima cosa di selezionare la clip giusta vedete che davinci ha preso la clip sopra e infatti anche qua si vede su clip che è la clip compound del della nostra titolatrice quindi ho cliccate qui o appunto come vedete potete cliccare qui sulla clip per selezionarla e essere sicuri ecco vedete che non succeda questo perché altrimenti prende sempre la titolatrice di restare sempre sulla clip questa qui selezionata quindi andiamo a spostare in da vinci 18 su questa telecamera che corrisponde al vecchio pulsante stabilise quindi con questo diciamo ecco qua infatti che vedete si accende stabilise questo qua andrà a generare un data tracking del oggetto che ora andremo a indicare quindi andiamo su questi tre puntini e andiamo a dire classic stabilizer spuntiamo qui lasciamo solo il pan e andiamo anche a mettere qui in basso come point tracker infine clicchiamo questa freccetta che ci farà venire la croce del tracking allora zoom un pochino questa è la nostra donna con il foglio in mano e cellule in mano prendiamo questa croce vedete che il cursore si trasforma quando ci sono sopra e la sposto qui la sposto esattamente sul punto che abbiamo tracciato anche prima su fusion questo qui sperando che vada bene quindi adesso non ci resta altro che incrociare le dita e premere per far avanzare il tracking ecco tornando indietro vediamo anche se c'era sembrato che la croce stesse ferma in realtà si è mossa tranquillamente ha seguito perfettamente la nostra donna e vediamo queste curve che sono proprio il tracciamento cosa facciamo adesso riclicchiamo sui tre puntini e facciamo copia trattata quindi in questa maniera noi abbiamo copiato questi valori ci spostiamo sulla clip sopra cioè questa qui del compound della nostra titolatrice andiamo sempre su stabilize andiamo a mettere classic stabilizer poi andiamo a mettere come strong meno 100 e prendiamo stabilizer e se andiamo a vedere la clip ecco qua la parola red come prima che segue la clip io direi che forse è più facile la tecnica infusion perché come avete visto una volta creato il tracker diciamo che possiamo anche agganciare più oggetti perché se facciamo così allo stesso tracker possiamo fare ad esempio una scritta ciao e questa scritta anche posizionata in qualsiasi altro punto seguirà comunque la signora il tracciamento della signora rossa e quindi scenderà giù con la stessa velocità della signora rossa come vedete inoltre qui sul tracker potete agganciare qualsiasi cosa vi faccio vedere vado a mettere un background lo metto rosso gli aggancio un poligono che ho fatto eccolo qua molto velocemente a forma di freccia una maschera poligonale e vado al background a mettere un transform che mi serve sia per ridimensionare ecco questa è la mia signora quindi posso ridimensionare la freccia spostarla e posso anche ruotarla questo per dire che potete agganciare qualsiasi oggetto ecco la freccia che segue la persona in un attimo molto più velocemente che farlo sulla color io vi ringrazio di avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti cliccare sulla campanella e valutate se volete sostenere il mio canale anche di cliccare un grazie e offrirmi un caffè sotto questo video grazie alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti